dottoressa tiziana nava che piacere averla davanti alle nostre telecamere lei qui oggi per dare un supporto esperto e un aiuto importante ai pazienti fibromialgici non solo per la terapia la fibromialgia è una patologia che riguarda tutto il corpo e che ha bisogno di un supporto di mani esperte e competenti ma anche per l'umanità che la dottoressa nava dimostra nella gestione di questi pazienti prima il dottor granata ci riferiva che una delle degli aspetti importantissimi nella terapia della paziente con fibromialgia è proprio la fisioterapia ce ne può parlare professoressa nava per favore volentieri spesso si indica ai pazienti fibromialgici fare attività fisica in realtà l'approccio non farmacologico l'approccio riabilitativo è più vasto merita di un'attenzione più complessa cioè si deve valutare la persona ma valutarla a livello bio cioè quelli che sono i sintomi psico quanto incidono questi sintomi a livello di stress e sociale quelli che sono i fattori contestuali familiari lavorativi obbistici e insieme alla persona identificare quelli che sono gli obiettivi che la persona vuole raggiungere il primo obiettivo solitamente è il dolore cioè intervenire sul dolore e questo è fondamentale perché il fisioterapista deve attuare delle terapie multicomponenti cioè non esiste una terapia ma confezionare sulla persona insieme alla persona sulle sue aspetti di gradimento quello che può essere un processo riabilitativo fatto da diverse tecniche che sono utili per quella persona in quel preciso momento e che agiscono in assoluta assenza di dolore perché il dolore diventerebbe causa effetto di ulteriore dolore per cui non esiste una tecnica precisa non esiste un processo preciso un protocollo ma la presa in carico della persona con tutto una sequenza terapeutica mirata ai suoi bisogni alle sue esigenti per il raggiungimento dell'obiettivo quindi un approccio complesso anzi diciamo meglio articolato che ha una da un'immagine più positiva un approccio bio psico sociale di un contesto e non solo della persona singola quindi considerare i bisogni della persona affetta da fibromialgia nel contesto in cui vive a concordare un obiettivo da raggiungere definire come raggiungerlo e quindi lavorare insieme insieme certamente vi ringrazio grazie grazie professoressa